La notte della Taranta, che vi ricordo è un evento molto atteso da parte di tutti i pugliesi, è stato, diciamo così, il festival suggellato da un incontro bello, tra due grandi cantanti, da una parte Fiorella Mannoia e dall'altra una bella Arisa al secolo Osalva Pippa. Entrambe i doni, infatti, pensate che si sono incontrate proprio sul palco. Si sono stretti un abbraccio molto forte, un abbraccio che non è passato inosservato, e ha detto, le sarebbero dette, ti amo. Si sono incontrate dunque le notte della Taranta, nelle prove, ci sono viste la cantante dai capelli rossi, è andata proprio vicino alla rurlega, la stretta, molto forte, in un abbraccio pazzesco, ti amo, ti amo, vuoi capire? Così le avrebbe detto. Il momento è stato ovviamente immortalato da delle foto che poi sono diventate virali qua sul web, e i presenti, ma anche il pubblico, hanno notato la scena dall'inizio alla fine. È stato un momento simbolico, simbolico, un vero, meraviglioso, angelicato, un momento straordinario dove entra, diciamo così, suggerlato una fortissima amicizia che forse veramente supera ogni tipo di immaginazione e abolisce ogni forma di protezione. Beh, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi legno di YouTube, mi raccomando iscrivetevi al canale e commentate, un calo usato nel cuore, e al prossimo.